Regione Toscana, il Consiglio regionale Benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il Consiglio regionale della Toscana, la nostra rubrica di approfondimento sul parlamentino della Regione Toscana. Anche oggi a Palazzo del Pegaso, dibattito tra maggioranza e opposizione, ma noi non perdiamo altro tempo ed andiamo subito a vedere il sommario di questa edizione. Sì, l'ufficio di presidenza del Consiglio regionale sostiene questa iniziativa perché coniuga storia, arte, cultura, sport, ambiente e la Toscana. La Francigena è uno degli elementi della nostra identità e come tale percorrerla lungo le strade con le biciclette in maniera lenta, in maniera cicloturistica, in maniera anche per chi vorrà più agonistica ovviamente, però denota un connubio straordinario di terre che non venivano legate se non dalla storia. Oggi lo sport lega questo territorio e per noi è stato un motivo di soddisfazione e credo che ci sia una grande organizzazione, una grande suggestione, un progetto che può proseguire e l'ufficio di presidenza sostiene fortemente questa iniziativa, la promuove e nel contempo nel raccontare i luoghi della Toscana raccontiamo noi stessi, la nostra storia, la nostra cultura, il nostro viver bene. Su questo c'è una bellissima iniziativa che nasce spontanea mediante la collaborazione con la dimensione dell'associazionismo e ha trovato l'ufficio di presidenza pronto a sostenere questa iniziativa. Questa, come la francigena, come l'abbiamo definita, non è una gara, ma è un qualcosa che va fatto assaporando il territorio con tutta tranquillità, senza limiti di tempo, quindi partiamo tutti, è vero, da San Rossore la solita mattina del 7, però poi dopo uno può fare 100 km al giorno, 80, 50, come crede meglio e come l'interessa. Noi l'abbiamo definita anche il percorso dei Cinque Sensi, cioè la vista, perché ovviamente tutto il percorso, avete visto, si vede anche dal grafico, si toccano le città d'arte, forse fra le più belle della Toscana, è sempre difficile poi stabilire quella più bella, ma comunque le città d'arte principali sono tutte toccate. Poi c'è l'olfatto, perché è un mese in cui possiamo odorare l'area settembrina della Toscana, che è molto bella, molto accattivante. Poi c'è il gusto, perché ovviamente il percorso trova anche tutta una serie di posti, non solo ristoranti di fama, ma può assaporare quelli che sono i cibi della Toscana, che ovviamente sono conosciuti in tutto il mondo. Devo dire che non è un progetto spot, è un progetto previsto per quattro anni, perché essendo noi organizzatori in genere di ciclo turistiche di lunga percorrenza, che si chiamano randonee, ci siamo dedicati, abbiamo capito che forse la cosa migliore per far vedere la Toscana in tutti i suoi aspetti, fosse individuare uno dei grandi cammini inseriti nella l'Atlante regionale, che è la Francigena, e farlo incontrare con gli altri grandi cammini che esistono nel territorio toscano. Tant'è che l'edizione 2024 la Francigena incontra le vie del sale, che non è un cammino ancora previsto nell'Atlante, ma è un antico cammino importante. Negli anni successivi la Francigena incontrerà la via Loretana, la via Romea Sanese e la via di Francesco, quindi sono quattro percorsi che dovrebbero per la prima volta offrire agli amanti della bicicletta degli aspetti della Toscana inediti. Tra i temi affrontati in questa seduta si è parlato anche di sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono tantissimi gli incidenti purtroppo mortali che si sono verificati in Toscana nell'ultimo anno, anche con, ricordiamo, negli ultimi mesi incidenti molto gravi a Firenze, ma si ha parlato di sicurezza sui luoghi di lavoro. I temi sono tantissimi, toccati dai consiglieri e dai gruppi politici, dalla sicurezza per quanto riguarda l'infortunistica, dalla sicurezza in agricoltura, dove il lavoro nero ancora oggi sembra essere molto elevato, così come anche sugli interventi che riguardano i cantieri edili che sono sottoposti a controlli. Noi andiamo ad ascoltare subito, dai contributi filmati nelle interviste, qual è la posizione dei gruppi politici in Toscana sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Intanto deve essere un impegno di tutti, perché ogni volta che c'è un incidente sul lavoro e magari c'è anche un solo morto, questo è uno sfregio alla nostra Costituzione che basa la nostra Repubblica sul lavoro. Quindi pensare che ci sono persone che la mattina escono di casa e poi magari non tornano perché hanno avuto una morte nel luogo di lavoro è veramente una cosa che contrasta con la civiltà, oltre a creare drammi umani, costi sociali e costi proprio economici. Noi pensiamo che l'impegno che tra l'altro la Regione mette da tempo con atti, con leggi, ma anche con protocolli concreti, ricordo quello nel settore del tessile per ispezione in tutte le aziende tessili di Prato quando ci fu l'incendio che costò qualche, anche lì, alcune vite umane. Ricordo il protocollo per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nelle cave delle Apuane, per quanto riguarda la sicurezza del lavoro nei porti di Carrara, di Livorno e di Piombino. C'è un impegno che è riconosciuto anche dalle statistiche perché ogni anno la Regione Toscana si colloca tra le regioni più virtuose per quanto riguarda i controlli e per quanto riguarda la salvaguardia degli incidenti, ma tutto quello che accade, anche un solo incidente, ma soprattutto anche un solo morto, è una cosa che non è tollerabile. Quindi occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la Carta di Firenze. L'attività che può essere fatta viene svolta. Quello che riteniamo essere opportuno e doveroso, che forse servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazioni delle stesse. Serve che le persone possano essere remesse nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma nello stesso tempo le aziende possano essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Molte volte ci si limita o ci si difende facendo una normativa, ma poi molte volte si creano maggiori oneri, magari burocratici, meno carte e maggiore tutela del lavoratore. Credo che il tema della sicurezza sul lavoro non debba mai essere un tema né che vada da una parte strumentalizzato né che vada da una parte affinché ci siano delle divisioni politiche. La Regione Toscana ha fatto e continua a fare delle azioni che siano appunto a tutela di tutti i lavoratori, ma la strada è ancora lunga. La strada è lunga in Toscana, ma è lunga anche a livello nazionale. Sappiamo che è in discussione il decreto lavoro appunto al Parlamento, che andrà appunto ad intensificare dal punto di vista di controlli, dal punto di vista di gestione, la sicurezza sul lavoro. Abbiamo apportato anche noi delle richieste alla Giunta regionale perché pensate nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi un unico maxistruttura regionale su cui però ci sono dei dati allarmanti perché pochissimi sono i dipendenti che occupano la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza. È un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro chiedono di essere trasferiti altrove perché comunque il lavoro è difficile quello di andare a controllare ma soprattutto di recarsi sui luoghi dove è avvenuta una morte. Quindi questo è quello anche che fa quell'ufficio competente e quindi un lavoro molto particolare, molto stressante, molto difficile su cui c'è bisogno anche di fare dei corsi di formazione, dei corsi di stabilità anche psicologica per coloro che vi lavorano all'interno. Sicuramente la regione toscana ha dei punti a suo favore per quanto riguarda il numero dei controlli perché supera la media nazionale del 5% sul tema dei controlli però ha anche tante leggi che siedono lì e che sotto tanti punti di vista non hanno avuto ancora l'attuazione che meritano. L'assessore si è sforzato di porci davanti un piano il più possibile rassicurante per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro ma l'effetto è stato esattamente il contrario. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione ai minimi termini e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente, sono state fatte delle campagne informative ma sono ancora troppo poche. Il settore dell'agricoltura continua a essere tra i più colpiti e sappiamo che quello dell'agricoltura è uno dei settori che occupa la maggior parte di manovalanze straniere che quindi hanno bisogno di una particolare attenzione proprio per la fragilità della situazione in cui spesso i lavoratori si vengono a trovare. È sottodimensionata l'infortunistica all'interno del sistema ferroviario e abbiamo il sistema del massimo ribasso che fa sì che la tutela del lavoro e dei lavoratori passi in secondo piano rispetto a quelli che sono dei conti ragionieristici per cercare di trarre il massimo possibile di ricavo da un appalto. Tutto questo è inaccettabile, il governo nazionale non sta facendo nulla al riguardo. Anzi, gli unici passaggi che sono stati fatti sono stati gli aumenti del personale per l'ispettorato nei posti di lavoro che sono stati fatti con i governi in cui il Movimento 5 Stelle si curava del lavoro. E questo è gravissimo perché stiamo assistendo ancora oggi a un numero di morti che ci indigna ogni giorno e che fa essere i nostri messaggi di cordoglio ridondanti all'interno di una situazione grave in cui fondamentalmente manca il monitoraggio, il denaro e il personale che vada a fare dei veri controlli sul territorio. La Regione Toscana, accorpando con una delibera nel 2017 la funzione di sicurezza con l'igiene veterinaria, ha dato il suo colpo a sua volta. E quindi qualcosa di più va fatto e non ci si può trincerare dietro un elenco di misure che non sono sufficienti, è palese. Pensiamo che debba essere fatto ancora molto a tutti i livelli. La Regione Toscana ha sicuramente a cuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince la comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la Regione. Stesso discorso vale per il Governo nazionale. Il Governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano, perché purtroppo anche il tema dei contratti è un tema che ricorre sempre più spesso. Spesso e volentieri al lavoratore non si fa il contratto più consono e più congruo alle proprie mansioni, ma quello più congruo e più consono alla sua retribuzione. E questo è quanto di più sbagliato possa accadere. Io mi auguro che non ci siano divisioni politiche e che la si finisca di strumentalizzare chi perde la vita, chi esce da casa per andare a lavorare e non fa ritorno alla propria famiglia, che è quanto di più brutto ci possa essere, per fare battaglia politica. Ho apprezzato, e l'ho detto anche oggi in aula, l'atteggiamento per esempio della segretaria del Partito Democratico, e all'indomani di quanto è accaduto a Firenze, anziché rifugire come hanno fatto certi sindacati in facili polemiche, ha teso la mano alla Presidente del Consiglio Meloni dicendogli su questo si lavora insieme e auspico che anche il Consiglio regionale della Toscana possa fare altrettanto. Siamo giunti al termine di questa edizione del Consiglio regionale della Toscana. Anche oggi abbiamo seguito in aula il dibattito tra maggioranza e opposizione, noi ci fermiamo qua e vi diamo appuntamento alle nostre prossime puntate.